E' buono il caffè? Voglio parlare con mio figlio. L'accordo non lo prevede. Quando abbiamo fatto un accordo? Porta a termine gli incarichi e non solo gli parlerai presto, ma potrai pure riabbracciarlo. Come posso... Come posso sapere che non l'hai già ucciso? Non puoi. Tuo figlio non è qui. Allora dov'è? Sai bene che non posso dirtelo. Ascolta, ti stai sbagliando di grosso. Non sono io il tuo nemico. Stanotte chiunque è il mio nemico. Lo capisco, ma puntarmi contro la pistola non è una buona idea. Questo lo scopriremo presto. Preferirei di no. Adesso, per favore... Molto gentile. Senti, malgrado quello che pensi, esiste un codice. La famiglia non si tocca per nessun motivo. Vladik ha superato il limite e la pagherà. Ne dubito. Hai la mia parola. Contaci. So che tu e Vladik fatti affari insieme. Aspetta, questo non ti riguarda. Eli, noi due ci conosciamo da un sacco di tempo, te lo ricordi? Non prendermi in giro. Non ti sto prendendo in giro. Sai dove si trova mio figlio oppure no? Non ne ho idea. E... Se lo sapessi... ...mi lo diresti? Bella domanda. Ti conviene rispondere. Te l'ho detto. Ascolta, se succede qualcosa a Mika, se lui muore... Lo so, lo so. Verrai a cercarmi. Vai in pace.